registrare eccoci qua partiamo avanti con il tupi direi eravamo arrivati un po al mansionario abbiamo visto l'articolo 52 partiamo adesso con l'articolo 53 incompatibilità accumulo di impieghi e di incarichi non è l'unico testo che ci interessa in merito ciao gin vodka non è l'unico testo che ci interessa conosciamo anche il 39 del 2013 conosciamo anche il tu el quindi tutto il tema dell'incompatibilità c'è anche il lavoro dell'anac dietro quindi insomma non è un tema che si esaurisce proprio con una fonte legislativa a articolo 53 no ci stanno un sacco di fonti legislative ok io ho qualcosa che sento che mi sono scordato di fare ma in teoria abbiamo messo tutto abbiamo messo a registrare c'è la diretta il microfono si sente se no gin mi direbbe che non si sente sembra tutto troppo liscio vabbè andiamo allora articolo 58 del decreto legislativo 29 del 93 come modificato prima dell'articolo del decreto legge 93 convertito alla legge 448 poi dall'articolo 1 del 95 convertito e infine dall'articolo 26 mamma mia regà un casino di fonti andiamo a vedere sto numero 424 cosa ci dice in dare quali mie durate contratti di lavoro postate appena per l'istitore presente provvedimento vedi no vabbè un casino un casino un casino di norme grazie gin del feedback e anche insomma di condividere la tua esperienza mi fa sempre piacere e continua continua a farteli tutti e mettici anche la live perché pure se poi la live non non è un argomento che stai seguendo a parte che sentire tutto è utile guarda solo come ho aperto oggi non è soltanto qui che troviamo l'incompatibilità ho nominato tre quattro leggi diverse tutto fa brodo ok quindi non ci andiamo a interessare di tutte queste modifiche legislative stiamo facendo il concorso non un tema in magistratura via l'importante ripeto questo si è sapere dove cercare sapere dove cercare ok resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità articoli 60 e seguenti di questo dpr che vi straconsiglio di andarvelo a vedere sempre dpr 3957 perché perché è fondamentale ogni tanto viene anche chiesto ai concorsi non sempre ma un po sì ma c'è sta qualcuno connesso sì perfetto ok ha senso partire ogni tanto viene chiesto in realtà quindi fatevelo decreto del presidente repubblica 3 del 1957 testo unico sulle disposizioni concedenti è lo statuto degli impiegati civili dello stato ok fatevelo è abbastanza lungo però c'è ammissione agli impieghi i requisiti generali l'idonità fisica all'impiego la famosa ciao liana ciavanessa concorsi di ammissione esclusione dal concorso riserva dei posti cioè qui c'è tutta la normativa sui concorsi doveri responsabilità e diritti quando mi dite cosa devo studiare lo sai liana che del nostro gruppo siete tipo in 45 ad aver superato ufficio il processo è bellissima questa cosa bravi bravi ciao valentina sto provando a chiudere la finestra che c'è un po di vento quindi se dobbiamo parlare dei doveri il codice di comportamento eccetera certo che il codice di comportamento i due codici sono importanti dovete sapere ovviamente sia quello generale nelle sue due modifiche che anche quello interno ma poi c'è sta il ccnl e tuel e il tubi cioè è pieno il dpr3 del 57 ce ne stanno tante ok ho l'obbligo della residenza il comportamento in servizio dice tutte cose del cazzo perché nel 1957 ancora avevamo un senso nel fare le leggi ok ragazzi non cominciate con le domande chilometriche se no non finiamo più se no ho iniziato prima apposta facciamo le lezioni fidatevi c'è lo spazio apposta per fare le domande c'è lo spazio apposta allora soprattutto se non inerenti a quello che stiamo vedendo ti faccio solo una domanda sul medio di studio poi seguo non ti interrompo sto guardando video per argomento poi prendo appunto e vado sul manuale certo va bene gin sì sì va benissimo certo bravo allora l'impiegato con l'esercizio delle sue attribuzioni bla 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 cagioni un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo l'azione di risarcimento può essere usata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione lasciamo perdere però insomma capite già da voi quanto è interessante questo testo quando si scrivevano bene le leggi in modo semplice ok il congedo il congedo straordinario ordinario per gravidanza e puerperio cioè ce ne stanno un sacco ciao ivan va bene quindi questo dpr che non viene molto chiesto ma un po viene chiesto tenetevelo sempre a mente guardate quanto è lungo sono 127 pagine ok tenetevelo sempre a mente che potrebbe usci fuori cioè così che non cascate diciamo dal pero se dovesse uscire quindi per tutti i dipendenti chiedo scusa resta ferma la disciplina dell'incompatibilità ex articoli 60 e seguenti però son coglione andiamocelo a vedere lo avevo aperto per un motivo allora articoli 60 e seguenti casi di incompatibilità questo sì ce lo vediamo l'impiegato non può esercitare commercio industria o professione o assumere impieghe alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituita a fine di lucro tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomine è riservata allo stato e sia all'uomo intervenuta l'amministrazione l'autorizzazione del ministro competente il divieto di questo articolo non si applica ai casi delle società cooperative l'impiegato può essere prescelto come perito arbitro preve autorizzazione del ministro o del capo ufficio da lui delegato parliamo vedete ministro eccetera ci stiamo parlando degli impiegati pubblici statali questo è lo statuto dei dipendenti civili dello stato quindi non esaurisce il tema delle responsabilità dell'impiegato pubblico perché lì lo dovete integrare con il tu e lì codice di comportamento il ccnl e un sacco di altri fonti l'impiegato che contravenga viene diffidato accessare dalla situazione di incompatibilità la circostanza che l'impiegato abbia obbietito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare dei corsi 15 giorni dalla diffida l'impiegato decade dall'impiego la decadenza cioè non è che viene licenziato decade dichiarato dal ministro va bene gli impiegati gli impiegati gli impieghi civili non sono comunabili salvo eccezioni tipo sindaco e ufficiale di anagrafe sindaco e funzionario amministrativo sindaco e assistente tecnico si può fare i capi di ufficio istituto azienda sindaco vabbè il vice sindaco sicuramente sì penso pure il sindaco non mi ricordo i capi di ufficio istituto aziende stabilimenti pubblici sono tenuti sotto la loro personale responsabilità a riferire al ministro competente vabbè il quale ne dà notizia la corte dei conti va bene quindi questo anche un po a condire adesso conosciamo anche questo testo unico quindi resta ferma questa disciplina ci dice il tupi salvo la terra che ho previsto dall'articolo 23 bis andiamoci a rivedere il 23 bis che dice il 23 bis vedo la chatta che scorre non mi piace già me starò del culo o in materia di mobilità tra pubblico e privato ok quindi salvo la disciplina sulla mobilità tra pubblico e privato si applica questo articolo 53 e salva sempre o comunque sia non salva ma restando ferma la disciplina di quel dpr la ok nonché per i rapporti di lavoro a tempo parziale un altro dpcm non ci interessa quindi qua l'unica cosa che ci interessa di questo comma 1 che sono sono solo norme è che resta ferma la disciplina di quel dpr il 3 del 57 non si possono conferire incarichi di direzione di strutture su gestione del personale a soggetti che rivestano abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o regali imitatamente alla gestione del personale e incarichi di direzione partiti politici o sindacali sono sempre equiparati ovviamente o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni quindi sia se siano stati parte di o anche solo collaboratori o consulenti quindi abbiamo sempre un'interpretazione estensiva ok che scrivete in chat buonasera a tutti lo può essere no assolutamente no domenico anzi anzi tra l'altro credo credo che abbiano due nomi diversi c'è l'organismo indipendente credo sia quello esterno quello interno non mi ricordo no non è il comitato dei garanti quello è per la valutazione dei dirigenti non mi ricordo comunque no no l'oiv anzi è ben spesso e volentieri è esterno ecco bravo ivan grazie era che il comitato dei il nucleo di valutazione dei dirigenti e il comitato dei garanti invece il nucleo interno di valutazione quando interno grazie infatti mi ricordavo che oiv si intendesse già un qualcosa di esterno buonasera gianluca grazie ivan ricordatevi sempre quando ci sono questi albi eccetera anche se sembrano delle informazioni di merda o comunque sia residuali fate caso che fanno tutti capo al dipartimento di funzione pubblica la materia dell'accesso la materia della trasparenza la materia del pubblico impiego fanno tutti richiamo al dipartimento della funzione pubblica che è uno dei dipartimenti della presidenza del consiglio va bene donatella devi cominciare dalle playlist molto semplicemente dalla prima te le senti tutte chiedo scusa ma mi sto a grattare tantissimo oggi mi sa che ho preso un po di zanzare quindi va bene questo comma 1 bis molto importante perché ci fa capire che l'incompatibilità a livello di tipologia del rapporto di lavoro si estende tanto alla carica quanto alla collaborazione alla consulenza il parametro cronologico di riferimento agli anni 2 il tipo di organizzazione che non vogliamo che rivestano questi soggetti è quella di direzione e soprattutto alla gestione del personale quindi non ha roba prettamente esecutiva grazie vanessa voglio fare una foto a questo bel commento perché si vede proprio che è uscito proprio da da lucure da ne stava uscimale la battuta allora hai visto come siamo calmi oggi perché ho iniziato un po prima danni grazie me l'avevi promesso devo ancora sentire il todio su instagram però quindi grazie però mille grazie dell'abbonamento allora non posso essere offriti quindi questo abbiamo capito tutti i parametri no cronologico il rapporto di lavoro il tipo di incarico ok le pia non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio non espressamente previsti disciplinati da leggi o altre fonti normative cioè i regolamenti dpcm dm quello che è con appositi regolamenti e quando tocchiamo i regolamenti statali si daniele abbiamo fatto tupi e un richiamo all'articoli 60 e seguenti del dpr 3 del 1957 che rega vi ripeto per chi entra soltanto ora in tema di responsabilità del pubblico impiegato e di incompatibilità e di concorso e di un sacco di altre cose che abbiamo visto è un dpr da conoscere non è da fare tutto ma è da conoscere torniamo a noi quindi atti normativi sono questi rega sono i regolamenti come sappiamo quest'articolo 17 comma 2 legge 1488 lo conosciamo a memoria regolamenti organizzativi di disciplina esecutivi regolativi bla 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 di tutte le tipologie ovviamente applicativi di disciplina di leggi grazie al cazzo va bene non ha senso che disciplini in un regolamento lo fa già il regolamento è la legge che demanda al regolamento di disciplinare organizzare seguire eccetera eccetera regolare li trovate con i due seguenti dpr firma del presidente della repubblica proposto dal governo e parere del consiglio di stato obbligatorio non vincolante lo dico rapidamente perché lo ripetiamo sì e no una volta ogni due tre elezioni quindi anche chi non avesse capito un cazzo tranquilli nei prossimi video in quelli che vi vedrete ci sta che lo ripetiamo dico quindi con questi regolamenti si individuano gli incarichi consentiti e quelli vietati ora perché è importante fare questa attività vorrei un attimino che ragionaste con me attivatevi ragioniamo insieme quindi rispondete in chat ok questo comma 3 ci sta dicendo che ai fini previsti del comma 2 cioè le pia non possono conferire incarichi non compresi nei doveri di ufficio loro dicono con appositi regolamenti individuate gli incarichi consentiti e quelli vietati a magistrati ordinari amministrativi contabili e militari avvocati e procuratori dello stato regà avvocati dello stato non è l'avvocato de un giorno in pretura è l'avvocatura dello stato è un'altra amministrazione sono gli avvocati che difendono solo le pia ok non pensate agli avvocati quelli normali ciao marina ora la domanda che vi faccio è perché è molto consigliabile fare un regolamento con cui individuiamo a monte gli incarichi consentiti e vietati a queste figure ma sarebbe opportuno vi dirò farlo un po tutti quindi la mia domanda è ed è fondamentale perché questa domanda se rispondiamo bene la capiamo capiamo che è una logica giuridica del dell'ordinamento in generale cioè non è una roba che usiamo ciò giusi solo per interpretare questo come questo articolo è una logica che capiamo che serve nella costruzione di tantissime organizzazioni ci dà l'idea di una certa prassi di una certa idea di stato che noi abbiamo quindi la mia domanda è perché è importante è molto consigliato che con regolamenti individuiamo a monte gli incarichi consentiti e quelli vietati rispondetemi vi faccio un altro esempio dove si applica questa stessa logica perché è molto consigliato che l'anac preveda sempre con dei pareri l'abbiamo visto il sito dell'anac rega si ma gli ho messo a registrare l'abbiamo visto il sito dell'anac l'altra volta vi ho fatto vedere che ci hanno gli atti modello i pareri le fac perché è importante che ad esempio l'anac faccia dei regolamenti con cui già ti dice quali procedure non si possono fare la logica rega non l'istituto questa è l'incompatibilità e siamo d'accordo la mia domanda parte dall'incompatibilità e vuole estendersi conflitto di interessi sono i beni che andiamo a proteggere va bene va bene va bene daniele tutto giusto vanessa no non sono a carattere imperativo liana si rega ci state girando intorno ma non state cogliendo o marina già ci siamo marina già ci siamo celerità evitare controversie e ce ne manca uno più importante di questi due rega ragionate marina ha accolto la logica si andiamo a tutelare l'anticorruzione si andiamo a tutelare il conflitto di interessi ma qual è la logica che ci sta dietro e vi ho detto non pensate solo all'incompatibilità pensate all'anac che fa i regolamenti ma non fa i regolamenti però i pareri e già ti dice quali sono le procedure vietate qual è il vantaggio daniele ci siamo trasparenza e buona fede ci siamo me ne ma c'è una parola però che a me piace di più in questo caso dai ce n'è una di più non non state capendo cos'è una pubblica amministrazione non state capendo cosa è un regolamento efficienza min va bene vanessa l'abbiamo detto evitare i ricorsi va bene controlli preventivi va bene ci siamo ci siamo ci manca una parola che è la vera essenza di questa roba ovviamente la sto pompando io non createvi tutta questa suspense però è un altro aspetto che io ho il primo a cui ho pensato voi me ne avete detti altri 6 7 tutti giusti tutti giusti privatizzazione domenico no non mi piace non è quella la logica che voglio dare a questa risposta economicità buon andamento sicuramente tutto giusto ve la dico io se io faccio un regolamento prima evito controversie evito ricorsi sì ma facciamo un passettino prima se io faccio i regolamenti sono oggettivo sono neutrale abbiamo già vista la differenza tra giudice pubblica amministrazione una imparziale l'altra è neutrale ok la pubblica amministrazione è neutrale perché col cazzo che è imparziale è parzialissima pensa ai cazzi suoi all'interesse pubblico il giudice è imparziale perché non ha proprio nessun interesse in ballo ok se li ho confusi mi sento male quindi no iva non è la delegificazione è l'imparzialità che è uno dei cioè lo sappiamo imparzialità è il buon andamento ma l'imparzialità non può che passare con un atto normativo precedente perché perché se io a monte faccio un regolamento con cui dico chiunque viene dalla cgl degli ultimi due anni non può fare incarichi se poi arriva mario rossi e dice è una roba contro di me ma che cazzo vuoi l'ho fatto prima questo regolamento c'ha 27 anni ma che cazzo vuoi quindi certo che andiamo a tutelare tantissime cose l'anticorruzione il buon andamento tutto quello che volete ma la vera essenza di questa previsione qua e soprattutto regà la vera essenza permettetemi di dirlo della legge stessa è quello è di essere imparziale la legge uguale per tutti faccio un regolamento prima non aspetto di autorizzare ogni singola richiesta di incarico o di o di altre prestazioni nel privato dal pubblico non aspetto di fare ogni volta una sanzione una diffida no faccio un regolamento do una base oggettiva imparziale di valutazione ok o però abbiamo ragionato bene è importante che capiate questo meccanismo perché è più facile per voi ricordarvi le cose ora ditemi sinceramente questo comma 3 se non avessimo fatto questo ragionamento dietro ma che voi voi ricordavate che ogni pia faceva un regolamento per disciplinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ma chi cazzo se lo ricorda ok adesso però che ci abbiamo fatto questo giochino intorno ciao enza 3 bis ai fini previsti dal comma 2 con appositi regolamenti emanati sul proposto del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione si chiama ancora così non me lo ricordavo di concerto con i ministri interessati un'altra volta articolo 17 legge 400 dell 88 la ritroveremo sempre sono individuati gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche articolo 1 comma 2 non ve lo vado a riprendere perché se dopo 240 video stiamo una roba del genere mi ricordo se non vi ricordate a memoria qual è la disciplina dell'articolo 1 comma 2 del tubi cambiate canale non inteso zapping ma proprio canale youtube anche qua regolamenti preventivi evitiamo i ricorsi sì ma soprattutto siamo imparziali caterina ciao edoardo dovemo fare quella cosa giusto è lo stesso principio dell'idea di avere un soggetto per individuato che subietta del caso di inercia dell'altro bravo o edoardo edoardo bene o questa fermi tutti questa è la trasversalità che mi piace questi sono i voli pindarici da fare non in sede di orale perché se in orale te ne esci così fai la figura dello sborone devi avere due spalle e due palle grosse per reggere un'affermazione del genere perché poi la proprio te stai a metà 90 e stai a dire gà chiedetemi tutto e tutto non lo sai però offline ok fuori dal concorso va bene questo è il ragionamento ideale che ci permette di ricordarci le cose e creare percorsi mentali soprattutto che per chi si droga diciamo rinnovarli fa sempre bene ok aperto e chiusa parentesi quindi è lo stesso principio dell'idea di avere un soggetto pre individuato la legge 241 del 90 il potere sostitutivo previsto nel dal 118 e 119 della costituzione la sussidiarietà verticale la 241 del 90 appunto con l'unità organizzativa il dirigente il concetto di gerarchia significa questo sì efficace efficienza perché se uno non fa ce pensa un altro però se io pre individuo l'organo sostitutivo non posso essere tacciato di incostituzionalità procedimento ad personam che cazzo ne so io ok è pre individuato poi mi direte voi ci sono i casi assurdi il lodo alfano sì va bene poi c'è il lodo alfano ma là siamo in un uso devo fumare perché se nomino alfano e berlusconi mi è voglia di fumare lì siamo nella fanta politica cioè lì siamo nel in un uso distorto e malato dello strumento della legge cioè quella legge rega è partita a livello di impulso governativo quindi come disegno di legge facciamo un po di ripasso anche di diritto costituzionale iter parlamentare di approvazione delle leggi rega è stata approvata in un mese un mese 28 giugno 2006 non mi ricordo disegno di legge approvato dal consiglio dei ministri portato in camera esaminato dalla commissione rimbalzo al senato firma del presidente della repubblica manco la vacazio leggis ha fatto è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in un mese il 28 luglio c'era il lodo alfano poi ringraziando iddio abbiamo un guardiano sulla costituzione che non so per quale cazzo di motivo è uno dei pochi organi costituzionali e di rilievo costituzionale non mi ricordo mai la differenza ivan se ti ricordi te dimmela ho finito i filtri cazzo che gliel'ha messa al culo al lodo alfano però si è rischiato grosso eh rega si è rischiato grosso io ho finito i filtri c'è possibile finire i filtri nel 2024 nell'era digitale ho finito i filtri cazzo scusate un attimo eh c'ho un pacchetto mezzo finito ecco oh allora quindi l'abbiamo colto questo ragionamento bravo daniele no 117 lettere m che 17 vabbè avrei sbagliato a scrivere quindi questa logica tenetela buona ve la rispendete in un sacco di altri discorsi e ragionamenti nel caso in cui i regolamenti di qualcomatere non vengano emanati l'attribuzione degli incarichi è consentita solo nei casi previsti dalla legge da altri fonti normative quindi come vedete comunque lo scudo ce lo mettono sempre eh che cazzo domenico quindi Ivan mi sta a dire che la corte costituzionale è un organo costituzionale ciao Luca perché poi invece organi di rilievo costituzionale perfetto ok mi volete fare un esempio di organo di rilievo costituzionale che è tipo la corte dei conti è ovviamente sto cazzo sto cazzo ovviamente va va detto ah Ivan te sei troppe cose però eh vi è qua appari in mezzo a noi cazzo è corte dei conti quindi vedi consiglio di stato ok bene consiglio di stato è corte dei conti ok knell bella daniele bravo il knell raga immaginatevi se riuscissimo su ogni concorso tipo a prendere tutti i cervelli per chi ha visto batman forever sa di cosa sto parlando e per chi ama Jim Carrey sa di cosa sto parlando uniamo tutti i cervelli a livello telepatico su ogni concorso tipo rega io c'ho un concorso domani e ci concentriamo tutti là facciamo tipo tutti i concorsi da 30 i sindacati vabbè CSM non lo so adesso mi fermo diciamo che ci siamo capiti ok comma 5 in ogni caso il conferimento operato direttamente dall'amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da una PIA diversa da quella di appartenenza ovvero da società o persone fisiche che svolgano tipitanti di imprese e commerciali sono disposti dai rispettivi organi competenti con criteri oh vedete raga è come al solito dimmo una cosa e troviamo la conferma subito dopo è una cosa che succede in continuazione criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica responsabilità tali da escludere casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento o situazioni di conflitto anche potenziale anche qua questa parolina chiave anche potenziale la troviamo sempre anche nello scioglimento degli enti locali ci sono anche soltanto la notizia di infiltrazioni mafiose quindi c'è sempre un concetto di potenzialità quando si tratta di certi beni tipo l'anticorruzione di interessi che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente chi ha Daniele prima ha detto il 117 sì livelli essenziali delle prestazioni quando vi dicevo raga è impossibile spiegarvi in che modo l'anticorruzione viene trattata come livello essenziale delle prestazioni vi avevo detto che lo si capisce guardando a livello panoramico il diritto c'è l'ANAC il segretario comunale tutti questi il pna tutti questi soggetti che quelli concorrono a eccone qui un'altra queste norme il dpr 13 3 del 57 questi commi qua concorrono a rendere l'anticorruzione un livello essenziale delle prestazioni perché sono stabiliti con legge sono rigidi con criteri oggettivi e predeterminati non si può spiegar sta cosa o la capite o non la capite i commi da 7 e 13 quindi i prossimi si applicano ai dipendenti delle pia articolo 1 comma 2 non lo rivediamo salvo quelli a tempo parziale fino al 50% che infatti possono fare attività d'impresa docente universitario a tempo definito altre categorie ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali norma ampia ogni atto pubblico regolamentare è nullo se viola questo comma sì il tupi è una norma imperativa quasi tutte le normi del tupi sono imperative quindi se andate contro del loro soccazzi e questo meccanismo a cascata lo avevamo visto anche nella contrattazione collettiva il tupi e altre leggi ci danno un terreno imperativo il ccnl si muove nei recinti imperativi la contrattazione decentrata si muove nei recinti del ccnl che si muove nei recinti della legge gli incarichi retribuiti di quei commi seguenti retribuiti sono tutti gli incarichi anche occasionali non compresi nei doveri d'ufficio perché per quelli non puoi essere pagato per i quali è previsto un compenso sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti quindi queste quale puoi fare come cazzo ti pare ok questa è una situazione di libertà per il pubblico impiegato prendo un attimo il respiro allora mi dovete togliere sti quiz che intendi Ivan? Non ho capito regà scusami Ivan non ho capito che intendi con mi dovete togliere sti quiz bravo Daniele bravo Daniele certo Ivan ma chi cazzo si va a leggere il preambolo del 33 del 2013 secondo te bella L ciao Ilenia sì ma non ho capito come mai Ivan si è si è stranito che cazzo è successo oh Ivan mi sto a preoccupare vabbè fammi sapere che è successo quindi sono esclusi i compensi da collaborazioni a giornali riviste enciclopedie e simili 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 a chi spetta a interpretare in primis al dirigente che se vuole può azionare l'azione penale disciplinare se l'azione disciplinare va male si macchiega e rompe si va da un giudice spetterà a lui interpretare questi simili grazie a cosa vecchie sentenze mi so perso qualcosa raga cioè non sto a capire proprio di che stai a parlare cioè ho paura di essere rincoglionito io il che è molto probabile ancora sono esclusi i compensi da utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno o invenzioni industriali cioè se io oggi mi invento paypal cioè che cazzo vuoi a parte che va a fanculo il posto pubblico e chi te se in cula però metti che peride voglio mantenere il posto di lavoro pubblico a fanculo ho inventato paypal partecipazione a convegni e seminari inerenti al tema inerenti al tema ok dalla partecipazione a convegni ah mi sa che ho capito Ivan dice ho capito che stessi a parlare di qualcuno in chat Ivan dice in generale levassero sti cazzo di quiz che rompono ho capito ho capito ho capito io invece sono a favore perché te posso di secondo me i concorsi raga fanno un botto di welfare mo scusate mo sto a tirar fuori la cosa però però concorsi come quelli della regione Napoli del 2019 18 e 19 un milione di domande 300.000 concorsisti hanno invaso Napoli per una settimana raga Napoli e Airbnb a go go pizzi a go go treni a go go è tutto welfare raga in più di quei 300.000 che hanno fatto il concorso tipo 10.000 se non sbaglio venivano assunti cioè che figata vaffanculo io pure là quando sto alle fiere mo vabbè io perché sono malato penso a ste cose perché penso a tutte le dinamiche strane che ci stanno dietro alle cose vedo i pischelli che fanno lì il servizio d'ordine ai concorsi se stanno 30 pischelli alla fiera di Roma vaffanculo quelli fanno 80-90 euro e cazzo te frega quindi che facessero le prese elettive discorso del cazzo scusate non ho capito una cosa questi compensi elencati possono dire sì Luca diciamo che sono le attività che in modo predeterminato oggettivo e imparziale parziale e neutrale scusami vengono fissati come esclusi da tutta la disciplina dei commi da 7 in giù che adesso ci vediamo perché siamo ancora al 6 ok li devi dichiarare esatto ma non sono soggetti ad autorizzazione situazione di fatto devo andare in permesso 104 mi spettano 3 giorni al mese lo sapete la legge io apro la mail e scrivo al dirigente e alla segreteria si comunica che in data sarò assente per 104 se invece devi prendere un permesso ok si chiede l'autorizzazione con la mail non si comunica il permesso ok allora quindi occhio sempre all'uso delle parole quindi la parola simili qua abbiamo capito in che senso è fondamentale perché lascia un certo margine di interpretabilità abbiamo vecchie sentenze tutto quello che vuoi ma va interpretato Paypal convegni e seminari inerenti al tuo lavoro dai incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate vabbè sti cazzi incarichi per lo svolgimento di cui il dipendente è posto in posizione di aspettativa comando o fuori ruolo è lì grazie al cazzo che li posso andare a fare incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccate o in aspettativa non retribuita attività di formazione diretta a dipendenti della PIA nonché di docenza e ricerca scientifica va buon andiamo avanti i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione tranne questi ecco perché qua dice i commi da 7 e 13 si applicano ai dipendenti e sono imperativi tutto ciò che è contrario a questi è nullo salvo questi che già te dico io che se possono fa è una costruzione del cazzo sono d'accordo bastava scrivere comma 1 i presenti incarichi sono liberi papapapapapa comma 2 i seguenti incarichi sono vietati vabbè ok quindi tutti gli altri fuori dalle lettere A F B vanno previamente autorizzati o conferiti a fini dell'autorizzazione l'amministrazione verifica l'insussistenza di conflitto di interesse anche potenziale i professoristi cazzi in caso di inosservanza ferma restando la responsabilità disciplinare il compenso deve essere versato nel conto dell'entrata del bilancio della PIA pensa che fregatura l'omissione è un'ipotesi di responsabilità erariale oltre a quella dell'agente contabile l'agente contabile con 4G l'agente contabile che maneggia il denaro delle carte di identità che maneggia il denaro delle multe quando si pagava cash tutte le altre ipotesi di maneggio del denaro e quello sei responsabile questa è un'altra ipotesi di responsabilità erariale e quindi di danno erariale ciao Mara saudasi come stas Mara non te vedo da un po' ma penso spesso a quella roba che mi dicesti tempo fa della dei fassi i cazzi proprio insomma vabbè ci siamo capiti ciao Monica soggetta alla giurisdizione della corte dei conti legge 20 del 94 la stiamo facendo nei video piano piano ma la stiamo facendo l'EPA madonna quant'è 38 minuti l'EPA non possono conferire incariche retribuite a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la prevatorizzazione da quella di appartenenza il conferimento è in ogni caso grave responsabilità disciplinare vabbè questa roba qua è la stessa di prima andatevela a vedere il comma 9 lo possiamo lasciar perdere vabbè l'amministrazione comma 10 ai fini del concorso lasciate perdere a chi gli interessa solo andasse a legge questo si entro 15 giorni dalla ricezione del compenso per gli incarichi quelli liberi comma 6 i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione l'ammontare dei compensi erogati perché il privato mettiamo che il consiglio dell'ordine degli avvocati mi chiama domani mi chiama domani e mi fa ah oh vieni a fare un convegno all'ordine degli avvocati in cui li convinci a fare i concorsi ok e quello è un ente privato ok tra l'altro portatore di un interesse collettivo lo comunicano loro alla PA per finalità di trasparenza poi c'è vogliamo affiancarci un aspetto contabile sì grazie Ivan mi strafido vado al 16 ter vogliamo parlare di un concetto contabile sì ci sarà pure la normativa sulla tracciabilità dei flussi perché quando quest'ente privato pubblico comunica il compenso mi dice pure che l'ha erogato su questo IBAN previamente comunicato ed è quello che già lo conosceva la PA di appartenenza qua stiamo facendo un attimino di contabilità tracciabilità dei flussi ok detto ciò è vero che la tracciabilità dei flussi si risolve in una cagata cioè basta dire che c'è l'IBAN metti la prova del versamento ed è tracciato perché basta che chiami la banca però è un qualcosa che ci possiamo sempre spendere in un'interrogazione rientra nell'anticorruzione nella trasparenza bla 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 così usatelo ad abbundanza i dipendenti che negli ultimi tre anni ricordatevi quella roba là del divieto di cumulo eccetera era biennale qui negli ultimi tre anni i dipendenti non gli incarichi di direzione i dipendenti che hanno esercitato ma io qua non è che vi sto esaurendo la normativa raga ci stanno diciotto mila norme che dicono i dipendenti gli incarichi di direzione il divieto il cu è il panico ok quella è una normativa che è sconfinata il che vi fa capire quanto abbiamo bisogno c'era un grande coglione Josh Carlin che diceva quanto più uno stato a leggi quanto più è popolato da idioti perché a te te serve dirmi che non mi devo far corrompere sì guardate che roba abbiamo tirato su per convincerci a livello culturale antiriciclaggio che è sbagliato corrompere però così va a creare un fiume di norme quindi dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA anche il sindacato non possono svolgere nei tre anni questo è il pantouflage pantouflages l'abbiamo fatto in un video a parte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego attività di lavoro professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri so cosa state pensando il pantouflage specificatamente per gli appalti sì ma il concetto è lo stesso i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto di vieto vabbè il 16DR si è importante però secondo me lo avrei letto pure io però che palle non si capisce un cazzo ha poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA che le hanno fatte negli ultimi tre anni non possono svolgere nei successivi tre quindi è un blocco è un blocco di tre anni ma anche quattro cinque sei attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della PA svolta attraverso i medesimi poteri quindi basta se prima era membro del CDA basta che lo nomini consulente e hai fatto i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli quindi questo è un regime di nullità testuale ok vi ricordate la 241 del 90 articolo Revolving Doors l'articolo 21 Septies difetto assoluto di attribuzione contrarietà a una sentenza irrevocabile quindi violazione allusione del giudicato mancanza di elementi essenziali si annulla anche un incarico eventualmente fatto con un provvedimento amministrativo anche per le nullità previste dalla legge eccone qua una tac basta Tupi basta ci fermiamo qua articolo 53 stiamo a fa' un articolo a video per sto cazzo di Tupi di merda ma siamo nella parte più importante lo sappiamo stop la registrazione aspetta però mo che fa' ah io direi di riprendere il tu Lrega perchè col tu L stiamo indietrissimo termino eh di riprendere il tu Grazie.